Un maggio fuori stagione, quello che è iniziato ieri con piogge e raffiche di vento, tanto da portare la protezione civile della regione campania a diramare un'allerta meteo di 24 ore fino alle 20 di quest'oggi. Un'allerta meteo di colore giallo per precipitazioni locali sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I temporali di queste ore sono caratterizzati da incertezze previsionali e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandini, fulmini e raffiche di vento. Precipitazioni forti che in alcuni punti del territorio possono portare a caduta di alberi e danni alle coperture e alle strutture provvisorie. Inoltre l'impatto al suolo delle stesse precipitazioni potrebbero causare allagamenti di locali interrati in alzamento dei corsi d'acqua. Si evidenzia poi il rischio di caduta massi e occasionali fenomeni franosi connessi a condizioni ideogeologiche del territorio particolarmente fragili. Pertanto la protezione civile della campana raccomanda ai sindaci dei territori campani di attivare i COCO, ovvero i centri operativi comunali, di verificare la corretta ricezione delle comunicazioni da parte della sala operativa regionale e di porre in essere tutte le misure di prevenzione e limitazione dei rischi previsti in linea con i rispettivi piani comunali. Grazie. Grazie. Grazie.